A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vittes, amici di Rete 7, amici del Nord Ovest, amici del Piemonte, poche variazioni, ancora tempo estivo, temperatura estivo, con i soliti disturbi pomeridiani, quindi la situazione per il momento non si sblocca. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, vedete queste nuvole tra la Liguria di Ponente, i settori alpini e prealpini del Piemonte, tra il pomeriggio e la serata della Val d'Aosta, anche su zone settentrionali e sulla Lombardia, avremo dei rovesci di pioggia tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Altrove un po' di nuvole in aumento, però nuvole innocue sul resto del territorio. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra i 14 e i 19 gradi centigradi, si comincia a soffrire un po' il caldo, soprattutto all'interno dei grossi centri abitati delle nostre grandi città. Temperature massime, comprese tra i 26 e i 30, 31 o 32 gradi, quindi valori di tutto rispetto, valori un po' più bassi sulla costa in Liguria, però con molta più umidità. Cari amici, mi fermo qui, vi auguro come al solito di trascorrere una buona settimana. Arrivederci.